Il treno regionale veloce Il treno regionale veloce Proveniente da Pesaro, è diretto a Rabenna e in arrivo in ritardo di 222 minuti al binario 2. Ci scusiamo per il disagio, quello di oggi invece è ancora soppresso. Ci scusiamo di nuovo per il disagio, ma anche il macchinista, il capotreno, e i passeggeri, devono godersi il mare e la spiaggia di Gea Marina. Avvisiamo i passeggeri del treno Frecciabelino, delle ore 15 a 49, proveniente da Ventimiglia, è diretto a Sestri Levante, oggi non arriverà mai, perché è rimasto bloccato al concerto dei Buio Pesto e i Trilli Trilli. Ci scusiamo per le bellinate. Avvisiamo i passeggeri del treno Euronight, delle ore 21 e 35, proveniente da Vienna, è diretto a Roma Termini, arriverà con un ritardo previsto di 230 minuti, in quanto qualcuno ha colpito il treno Intercity Notte, proveniente da Salerno, è diretto a Milano Centrale. Ci scusiamo per la super tragedia. Avvisiamo i passeggeri del treno regionale, delle ore 11 e 35, proveniente da Tropea, è diretto a Paola, verrà effettuato con carrozza MDVC, sta rottamando e demolendo in partenza dalla stazione di Vibo Valencia Pizzo. Ci scusiamo per il disagio non troppo però. Grazie a tutti.